Buonasera da Sandro Cane, è tarda notte, sono le 2 e vi dico subito, sono le 2 e, ciao non si vede, telefono, cellula, le 2 e 40, allora non ho mangiato stasera, stamattina fino a mezzo al giorno passato ho fatto un documentario e vabbè adesso mi faccio, mi sono fatto un pan pizza che adesso ve lo faccio vedere, spettacolare, così almeno ho una soddisfazione il giorno libero un'una, gli altri hanno le soddisfazioni tutti i giorni, io il giorno libero ne ho una a mangiarmi in panina, sono al verde come sapete e mi sape stanotte dormo al ristorante perché è più caldo della casa, eccoci qua, salsa allo yogurt, funghi, siccome non ho la porchetta perché non l'ho fatta perché non vale mica la pena quando si è vuoti fare cose nuove, è meglio finire quelle che ci sono già, qua, qua un paio di foglie di salata, due cetrioli di quelli, di quelli, scusate sono andato da un'altra parte, due cetrioli di quelli giusti e poi la mortadella ragazzi e questo è un panino di lusso, ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao ciao, adesso me lo mangio e mi bevo una bottiglia di vino, ci vediamo domani, caricherò altri video più avanti, adesso sono molto interferato e devo liberare il ristorante se qualche anima domani vorrà venire a mangiare, ciao ciao, buon proseguimento, se non ci sentiamo ancora buone feste.